Nessun disagio economico o sociale, ma solo la stanchezza per una routine difficile da gestire con l'avanzare dell'età. Sarebbe questo il contesto in cui sarebbe maturato il dramma che si è consumato ieri a Urtona nell'appartamento di Roberto e Antonio Tatasciore, al civico 43 di Via Tripoli. Due persone per bene, pensionati senza problemi economici. Così chi li conosceva descrive due fratelli di 74 e 70 anni, protagonisti dell'omicidio-sucidio scoperto da un terzo fratello, Tommaso, nella tarda serata di una fredda domenica di fine gennaio. Un dramma che in molti, all'indomani della tragedia, attribuirebbero all'aggravamento della disabilità del 74 anni Antonio, per il quale si stava predisponendo il trasferimento in una struttura. Un cambiamento che avrebbe scombossolato la vita di entrambi i fratelli che vivevano insieme da sempre, rompendo l'equilibrio di una routine domestica in cui negli ultimi anni, complice anche la paura del Covid, la vita sociale di entrambi si era ridotta ai minimi termini. Uscivano poco, quasi non si vedevano più in giro per Urtona, Antonio e Roberto, soprattutto Antonio, che col passare degli anni aveva visto aggravarsi i suoi problemi di deambulazione. E gli anni del Covid avevano acuito l'isolamento dei due fratelli, per questo a prendersi cura di loro era il fratello Tommaso, che spesso sacrificava il tempo da trascorrere con la sua famiglia per regalare affetto e vicinanza ai due settantenni. Anche quella di ieri sera doveva essere una visita di routine, ma si è trasformata in un incubo, quando nell'appartamento al pian terreno di via Tripoli Antonio e Roberto sono stati trovati privi di vita. Roberto avrebbe strangolato con un cavo elettrico Antonio, per poi impiccarsi con una corda fissata al sostegno del letto per disabili del fratello 74enne. Un omicidio-suicidio che a Urtona, all'indomani della tragedia, nessuno si sente di commentare, neppure il sindaco Leo Castiglione, che si limita a esprimere vicinanza alla famiglia di Tommaso. Certamente siamo tutti sconvolti, la cittadinanza è rimasta sconvolta per questo episodio inatteso, inaspettato, che logicamente colpisce a livello umano e di comunità. Una disgrazia personale che forse è frutto della disperazione, questo non siamo in grado di poter specificare meglio, ma certamente è qualcosa che ci tocca a tutti e quello che possiamo fare è far sentire la vicinanza come amministrazione, come cittadinanza al fratello, alla cognate, a tutti i familiari per questa grande disgrazia. Non c'era un disagio sociale, è stato detto, non c'era neanche una rete di assistenza sociale nei confronti di questi due fratelli? No, assolutamente, questo lo posso smentire perché erano due fratelli pensionati che non avevano necessità del supporto dei servizi sociali, quindi assolutamente no. Credo che sia semplicemente un caso di disperazione umana e personale che ha portato a questo gesto.